Si blocca l'iter di nomina dei presidenti delle autorità portuali di Puglia e rimane coinvolto in questa polemica di stampo politico anche Taranto, porto guidato da un commissario e per il quale era stato nominato, salvo ratifica del Ministero, l'avvocato Sergio Prete indicato dal Comune. Ritorna tutto in alto mare perché l'Udc, rimasta fuori dalle nomine, contesta le scelte fatte per Brindisi e Bari e il confronto va ripreso a livello romano nelle commissioni ministeriali. Lo schema prevede Bari e Taranto al centro-sinistra e Brindisi al centro-destra. Il presidente indicato per Brindisi, secondo l'Udc, non possiede i requisiti richiesti, mentre a Bari la designazione di Mariani non è convincente, considerata la prova fornita negli anni in cui ha già guidato l'autority. Anche Taranto rimane sospesa, al di là della vicenda politica, perché un aspirante candidato, l'ammiraglio Giancarlo Limbo, ha presentato ricorso al Tar contestando la scelta fatta dal sindaco di indicare Sergio Prete. Olimbo ritiene che non possiede i requisiti nell'esperienza necessaria per guidare il porto.